Prima della traduzione del signor David Icke, desidero ricordare che lo scorso 13 luglio 2022 il signor Trump, in uno scambio di opinioni su Twitter, ha affermato che le navicelle spaziali di Elon Musk non vanno da nessuna parte. Questo per farvi capire che la verità dei fatti la mostrano sempre. Pertanto anche i presunti satelliti non vanno assolutamente a finire nell'orbita bassa. Fate attenzione a chi porta regali quando la loro storia non racconta che l'hanno fatto e detto ciò riguardo Elon Musk. Questa idea che lui tiene riguardo alla libertà di parola è una beffa. Gestisce SpaceX è in prima linea col culto di averla. Conduce SpaceX dove mette in orbita bassa tutti i satelliti che irradiano 5G eccetera verso Terra, 6G e 7G in seguito. Gestisce Tesla che produce automobili elettriche senza conducente per giustificare la loro parte elettrica. Giustificare che l'uomo causa il cambio climatico che non sta succedendo. Ma perché spingono per le auto elettriche giustificate dalla truffa che l'uomo ha causato il riscaldamento globale? Perché vogliono auto senza conducente che sono guidate da computer. E questo non può succedere con i motori a benzina, motori diesel. Succede con le automobili elettriche. E l'idea che il computer si trova là in quel momento è quando entri nella tua auto e guidi dove tu vuoi. L'idea che questo computer stia per guidare autonomamente le auto è che il computer decida i limiti di dove tu puoi e non puoi andare. Questa è l'intera idea. E lui ha detto, ha detto qualche anno fa, che l'intelligenza artificiale può essere la fine dell'umanità. Vero? Come sappiamo. E poi ha iniziato l'azienda chiamata Neuralink per collegare il cervello dell'uomo ai computer. Inoltre produce delle micro abitazioni attraverso Tesla che si trovano nei miei libri da anni. Questo era il programma come parte del sistema di controllo. E qualsiasi cosa che lui fa è di far avanzare il programma del culto. E si suppone che noi crediamo che si prende cura della libertà di parola, che è stata cancellata da lui. Quindi fate attenzione. Ed io ho lanciato anche Trump dentro ciò. Sapete, Trump è visto come salvatore. Una volta che vedete tutti come un salvatore, avete perso la trama. Perché se volete vedere il vostro salvatore, mettetevi davanti allo specchio e guardatevi. Così, se guardate Trump, che si suppone sia il tipo contro il sistema, è uno scherzo. Sta nel sistema per tutta la sua vita. E che cosa ha fatto? Quando ha avuto la possibilità in tutti questi quattro anni, che cosa ha fatto realmente? Non importano le parole, sono facili. Che cosa ha fatto? Per la visione completa del video è necessario cercare sulla pagina Indice Alfabetico, dal sito web www.tinelli.eu, la voce David Icke vede attraverso Elon e Trump come attraverso ad una lastra di vetro.